Mettete pure Cristiano in su Si cascata Francesco? No, adesso è cascata Ecco i ragazzi si apprestano A caricarsi con il grido di battaglia Allora ragazzi Che va fa oggi? Noi siamo forti, siamo forti Quindi che fa il Castellino? Ruggisce! Oggi il Castellino che cazzo deve fare? Ruggisce! Che fa il Castellino? Ruggisce! 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 Ruggisce!